Previsioni per oggi. Nel pomeriggio, al nord, cieli grigi con scroci di pioggia intermittenti. Al centro, nubi irregolari con locali acquazioni. Al sud, nubi irregolari con locali acquazioni. In serata, al nord, tempo uggioso con deboli piogge. Al centro, nubi irregolari con locali acquazioni. Al sud, nubi irregolari con acquazioni intermittenti. Previsioni per domani. Al mattino, al nord, schiarite alternate a nubi sparse. Al centro, tempo uggioso con deboli piogge. Al sud, nubi irregolari con temporali anche intensi, nel pomeriggio, al nord, soliato, ma con nubi sparse. Al centro, nubi irregolari con locali acquazzoni. Al sud, nubi irregolari con acquazzoni intermittenti.